Buonasera e benvenuti alla seconda puntata del Salotto della Morghi. Questa sera abbiamo il piacere di avere con noi una bella e giovane ragazza, Valentina che viene dalla Lombardia. Ciao Valentina, sei giovane e fresca ho visto dal tuo profilo, ci siamo conosciute due giorni fa, se non sbaglio, no ieri, ci siamo scritte, ci siamo conosciute, ti è piaciuto il nostro progetto e hai voluto partecipare. Vuoi presentarti cortesemente? Sì, sono Valentina, ho 42 anni e sono un Trab da tanto tempo, però non fuori per locali, per feste, ma sono una delle parti delle Trab che sono in casa, sono in casa da tanti anni, che si vestono proprio vestiti, fanno gli artisti, nascondono i vestiti e stavo per uscire a fare qualche serata a inizio marzo, però dopo è successo tutto il casino del Covid. Cioè è stata sfortunata? Sfortunata. Sfortunata? Sfortunata. Certo, quindi hai il programma di uscire e insomma di farti conoscere. Sì. Quale sarà la tua prima meta? La prima meta dovevo andare tipo a Peritrav, dove ci sono tipo solo sovelline, però adesso devo vedere un po', adesso avendo conosciuto anche la Roby, magari mi faccio coinvolgere in una delle sue feste o se no vediamo. Bene, bene, direi che è un'ottima è un'ottima prospettiva e speriamo di riuscire a farlo Enzo entro breve termine. Come nasce Valentina? Quando nasce e come nasce? Allora, Valentina nasce diciamo ai inizi di novembre dell'anno scorso, diciamo che avendo Io, essendo stata a Trav per tantissimi anni, essendomi sempre vestita in casa, mi era venuta proprio la voglia di vedere come ero femminile. Proprio veramente... Quindi tanto dresser a Trav? Sì, sì. E allora ho deciso di andare a un dressing service per vedere, di essere truccata bene e proprio farmi vedere la femminile. Ho messo nove mesi per andarci, mi trovo il coraggio di andarci e beh, fortunatamente dopo all'inizio novembre sono riuscito ad andare da lineata Valentina. Adesso ti trucchi da sola, hai imparato, fai... Sono... sto sempre un po' migliorando. Diciamo che lo faccio una volta alla settimana e piano piano dopo con la pratica, dai, sono discreta. Sono un po' pignola. Certo, è giusto, si vede che tieni molto alla cura della persona e dell'aspetto, è molto importante questo. A ogni età e soprattutto se si vuole uscire, lo ripeto un po' per tutte le sorelle, guardarsi allo specchio prima di uscire, per essere bene con se stesse e stare bene anche con gli altri ed essere rispettose, diciamo, ecco. Io la vedo un pochino in questo modo. Ok, volevo sapere da te i rapporti con la famiglia, il lavoro, gli amici, se lo sanno, se non lo sanno, come intendi regolarti? Diciamo che non lo sa nessuno. È ancora al giorno zero. Sì, al giorno zero. Non so se poi neanche in più avanti qualcuno dovrà sapere o se resterà ancora tutto segreto, diciamo. Ecco, quindi per ora non c'è nessun tipo di feedback né positivo né negativo da parte di nessuno. Quindi tu svolgi una vita normale durante il giorno e di tanto in tanto vivi Valentina. Sì, adesso dai diciamo nemmeno una volta a settimana. Con tutti gli impegni riesco a tagliarmi uno spazietto alla sera dopo le dieci. Giustamente cerchiamo di fare quello che si può anche perché appunto è una parte importante ma non la parte preponderante della nostra vita perché dobbiamo mantenerci, dobbiamo lavorare, insomma abbiamo famiglia, chi ce l'ha, eccetera. Quindi è chiaro. Utilizzo dei social. Io ho visto che hai un bel profilo Facebook anche se è. Me lo sono andato un po' a studiare. Ammi disegnare mi sembra di vedere. Studi, look, studi? Sì, diciamo che più che amo disegnare mi piace tanto scrivere perché gestisco già nella vita normale tanti siti, blog e allora seguo già anche social. Allora ho preso piede iniziando un po' con Facebook, un po' con Instagram. Di solito faccio una sessantina di foto e riesco a trovarmi una o due decenti. Quindi attenzione anche all'aspetto, diciamo, dell'immagine, l'aspetto fotografico. Qual è la tua preparazione, la tua cultura? Perché sento che sei molto avanti nelle cose. Cosa fai nella vita? Come preparazione sono nel ramo elettrotecnico. Ok. Impiantistica. Però, avendo fatto un indirizzo tecnico, quando mi sono diplomata, come prima materia, avevo portato italiano. Mi piaceva scrivere. Esatto. Veniamo appunto allo scrivere, perché è una cosa abbastanza inusuale, se vogliamo dirlo. Tu scrivi dei racconti di che genere? Di genere erotico? Di genere narrativo? Diciamo che racconti ho iniziato a scriverli nel 2008. Erano racconti di femminilizzazione forzata, diciamo. sempre storie di ragazzi che in situazioni particolari vengono costretti a... femminilizzati, costretti a vestirsi da donna. E diciamo che ho preso un po' di fantasie che avevo, cose che mi piacerebbe fare, cose che mi piacerebbe fare, utilizzando sia uomini che donne, un po' varianti, un po' parendo le situazioni, così. E poi sono rimasti lì nel cassetto, aspettando il momento di venire alla luce. Ecco, sono maturati nel frattempo. Sì. Adesso sono maturati, allora ogni settimana pubblico un racconto... una settimana pubblico un racconto vecchio. E una settimana invece pubblico un racconto nuovo, ma anche basato sul rapporto che ho con le altre sorelline, su magari quello dove ogni tanto parliamo, facciamo delle chiacchierate e riesco anche a scrivere magari anche cose per loro. Ho capito. Ecco, vi viene spontaneo chiederti questo, riguardo al discorso femminilizzazione. Come mai ti interessa l'aspetto forzata? Nel senso, per quello che riguarda me, per quello che riguarda anche te, da quello che mi sembra di capire è stata una faccina spontanea, ecco, piuttosto che costretta, ecco, diciamo. Cioè, il discorso della costrizione, che molla ti fa scattare nella testa? Diciamo, di solito non sono una delle persone che scrive tipo quello che si sente, cioè scrivo le cose che non vorrei tipo provare mai. Tipo... E' un qualcosa che vorresti tenere lontano, sostanzialmente. Sì, perché, diciamo, io vorrei trasmettere, tipo, con questi racconti qua, tipo la persona, cioè l'uomo che si sente tipo uomo virile e in determinate situazioni viene costretto a essere donna, mentre tipo in realtà a noi ci piace essere donna. La città di nascita, sostanzialmente, ecco, diciamo, poi... Io rivolto agli altri, a quelli che si sentono tipo superiori, tipo superiori alle donne, come se vengono puniti... Ecco, sì. Puniti da altre donne o da altri uomini a essere donne. Ecco, quindi si tratta di master o mistress, principalmente? O tutte e due? Dipende, tutte e due, perché nel corso degli anni all'inizio scrivevo solo di uomini. Ok. Però ultimamente anche più donne, più donne che femminizzano uomini. Certo, perché sono due cose che sembrano simili, in realtà sono completamente differenti, se questa operazione viene portata avanti da un uomo o da una donna, chiaramente. Comunque, e in questo discorso c'entra qualcosa anche la sottomissione che ti stimola, che ti interessa, o che la esorcizzi? Forse un po' che la esorcizio, perché non... Adesso sono ancora tipo walk in progress, perché non essendo ancora uscita, tipo dal guscio, da casa, non ho praticamente nessuna esperienza. Dunque, come se mi sto preparando a quello che potrebbe succedere, perché non so dove mi porterà la vale, in realtà di spirito libero non so dove andrà parato. Quindi nella tua cassetta dei ferri metti praticamente qualunque attrezzo che possa servire, ecco, senza sapere a cosa, specialmente. Ci sta. Ok. Come intenzione, invece, come sensibilità, cioè cosa pensi che sia il tuo uscire trav? Cosa porterà a dei rapporti con uomini, con donne, con sorelle, a non avere rapporti, a vivere semplicemente la femminilità? Ci sono tanti modi di vivere questa vita. Diciamo che inizialmente, per ora, essere trav mi piace proprio per uno scambio di opinioni, cioè, più per altro per magari fare una serata con altre sorelline, condividere lo stare bene assieme, perché principalmente io non sono attrattato dagli uomini, cioè sono attrattato solo dalle donne. Ok. Questo è stato un po' un problema degli anni di essere trav, perché ovviamente non conoscendo il mondo, non conosciuto negli ultimi sei mesi, che è un mondo veramente esteso, non pensavo che esistesse, pensavo di essere un po' fatta male, perché è un piacere vestirsi da donna, truttarsi, essere donna, e non piacere ai maschi, mi sembrava di essere un po' un caso strano. No, no, non è per niente un caso strano. Io ho una mia teoria, nel senso che vorrei esporti e tu mi dirai semplicemente se la senti giusta o meno nel tuo caso, cioè per quello che mi riguarda c'è l'attrazione assolutamente nei confronti della donna, perché la trav nasce maschio etero sostanzialmente e ha una tale ammirazione, una tale desiderio della femminilità, della dolcezza, dell'eleganza della donna, da volerla possedere talmente intimamente, da incarnarla. Ecco, poi tutto quello che succede successivamente è un po' una conseguenza forse, ma di base è quello. Tu cosa ne pensi? Sì, anche per me sì. Perché proprio è sempre il rapporto dell'uomo, proprio di come è rappresentata la società, l'uomo e la donna, che l'uomo deve essere sempre quello forte, che non deve provare emozioni, perché si dice sempre che sia una femminuccia, invece la donna ha più libertà di esprimersi, di piangere, di soffrire. Sì, sì, ma esprimersi anche nella movenza, oltre che, ad esempio, il mio modo di muovere le mani, di parlare, di capire le cose, eccetera, ha sempre portato nella mia carriera scolastica, diciamo, a farmi considerare gay dai miei compagni, che poi invece dicevano, ma come mai c'è la fidanzata? Cioè, si domandavano questa cosa qua, ecco, perché ho sempre avuto questa delicatezza, diciamo, di rapporto. E quindi, esatto, trovo conferma in quello che tu mi dici. Alcune di noi, invece, nascono gay e passano alla, diciamo, alla autofemminilizzazione non forzata per esprimersi magari meglio, avere più successo, ecco. Quindi, un po' queste due categorie ci sono nel nostro coso. Poi ti posso dire che potrebbe essere che noterai come, uscendo e relazionandoti, avere un uomo accanto, non necessariamente per farci sesso, può completare il personaggio e completare la figura femminile che stai incarnando in quel momento. Credi che potrebbe succedere o lo escludi a priori? Quello penso, conoscendo la Vale, penso che potrebbe succedere. Non so dove vuole andare, non avendo esperienze, però non posso escluderlo. Beh, comunque, la Vale è già assolutamente fidanzata, mi sembra, quindi, insomma, dovresti essere al sicuro, ecco. Come abbigliamento come sei? Qual è il tuo genere? E abbigliamento è ancora un po' diciamo scarbo, ancora troppe, poche cose. Diciamo che prima mi vestivo a casa, ma non... Con la scattorezza dei divertiti, diciamo... Sì, ma con... Neanche con l'idea di uscire, infatti avevo comprato un paio di scarpe con il tacco 15, perché... Più ce ne metto è chiaramente, certo. Però non si può camminare, e anche i vestiti, ho preso qualche vestito, però adesso mi sono reso conto che non andrebbero bene per una serata, dunque dovrò iniziare a... Diciamo a farmi un lugar d'arroba. Sì, certo. Sei da stivali o sei da décolleté? Come scappa? Sì. No, però più da décolleté. Più da décolleté, vero, sì. Bene, prospettive quindi per il futuro, uscite, vivere questa esperienza e vedere un po' come va, non hai una... una roadmap, diciamo, preordinata. No, diciamo che è sempre un problema, riuscire a trovare un giorno libero e dunque sarà già un'impresa riuscire a fare qualche uscita, perché come ti ho detto prima, già per andare a diventare Valentina sono dovuti passare nove mesi e poi sempre anche col problema del lavoro e anche con la famiglia è sempre un problema che prendere solo un giorno o un giorno magari anche una notte. Certo, perché poi ti fanno... Si fanno poi le ore piccolissime e il giorno dopo bisogna anche sembrare a posto. Sanno sì. Eh, infatti, perfetto. Va bene. Direi che abbiamo toccato molti argomenti. A te era piaciuta la domanda che avevo fatto e quindi la ripropongo anche a te, il Gay Pride. domanda che avevo fatto la puntata scorsa alla Roberta. Sì, e come... questa foto ha un'idea come le risponde la Roberta. E diciamo che io non sono una persona esibizionista, anche se andassi in qualche locale me ne starei magari per me in un angolino a guardare, a parlare, però non sono una... anche come in ambito maschile una che si scatena, che vuole essere il centro dell'attenzione. mi piace un po', magari tipo potrebbe essere corteggiata, ma non cioè farmi vedere. E dunque, diciamo anche per il Gay Pride c'è una cosa bella, però tante volte ci sono forse un po' troppi eccessi e come ha detto anche la Roberta ovviamente a LPU vedono solo troppi eccessi e non giudicano male. Insomma, ci vorrebbe un Trav Pride sostanzialmente forse. Qualcosa di... Sì, ma manca qualcosa anche di più soft senza... perché alla fine tante volte viene quasi paragonato a un carnevale. Sì, è un carnevale perché in tanti è un carnevale di Dio c'è i carri e tutto chiaramente infatti però anche in quell'ambiente lì mi sembra che noi non abbiamo visibilità se non proprio marginale quindi anche parteciparci non so quanto sia quanto possa essere produttivo alla fine dal nostro punto di vista perché siamo solo un di più e forse anche una stonatura nel campo ecco questa è un po' la sensazione che ho avuto io ecco quindi dovremmo pensare un po' di più a essere noi stesse e a farci valere per quello che siamo Sì Va bene io direi che abbiamo fatto una bella intervistina se hai da aggiungere qualcosa di tuo che vuoi sottolineare no sono contenta di aver fatto questa intervista diciamo che sei riuscito a convincermi con tre parole ero iniziato che avrei voluto fare l'intervista qualche mese più avanti quando avrei fatto qualche serata per meno per avere qualcosa in più da raccontare qualcosa in più da raccontare sulla valle faremo la puntata due bis sulla valle che ci racconterà dopo che cosa è successo e cosa è cambiato nella sua nella sua visione perché è davvero una visione in progress questa io ti posso dire anche sull'abbigliamento se posso parlare un pochino dei fatti che riguardano me all'inizio quando dieci anni fa ho cominciato ed ero come te che dalla scatoletta di due vestitini sono passata a pensare agli abbigliamenti per le serate eccetera all'inizio tu pensi più ce n'è meglio è quindi parti dal tacco 15 se ci fosse il 25 meglio ancora eccetera poi via via ti accorgi che come come a fare come lo scultore che dal blocco di marmo tira via la tira via del materiale quindi toglie per evidenziare quello che c'era dentro quindi all'inizio è un po' grossa e poi via via si sfuma vedrai con il tempo lo dico anche alle altre sorelle che cominciano magari o che sono alle prime armi eccetera all'inizio si tende un pochettino a esagerare anche per magari insicurezza o che ne so successivamente prendendo confidenza ti accorgi che alleggerire in certi punti può rendere tutto molto più gradevole e piacevole ma ogni fase ogni momento ha il suo frutto ecco diciamo quindi io ti auguro di divertirti di star bene che finisca presto questo lockdown della pandemia che possiamo tornare a una vita normale a vivere i nostri rapporti che siano trav che siano normali in serenità e in allegria bene? va benissimo ti ringraziamo e un bacio ciao ciao grazie ancora e complimenti per il coraggio di aver così in una fase così iniziale averci messo la tua faccia e il tuo bel sorriso grazie Valentina abbiamo messo anche la la versione di inizio inizio trava esattamente le problematiche varie perfetto metteremo magari nei il tuo link hai se vuoi darmi il link di tuoi racconti lo metteremo nei commenti del lo metterai nei commenti perfetto ti ringrazio e grazie ancora buona fortuna arrivederci grazie ciao 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 ciao